Mr. Raffaele, il Catania centra la decima vittoria in questo campionato nell'arco di 19 partite con una rimonta che è stata entusiasmante. Sì, è stata una partita dura, ma non soltanto nello svolgimento dei 90 minuti, ma nella preparazione degli ultimi tre giorni perché abbiamo avuto delle situazioni particolari, abbiamo perso un paio di certezze di gioco che avevamo nel nostro modulo che stiamo interpretando ormai da qualche settimana e abbiamo messo forza causa maggiore Matteo di Piazza che è arrivato soltanto venerdì e abbiamo dovuto mettere anche Golfo che è arrivato soltanto ieri, quindi un po' perdevamo delle certezze, però la squadra prima della partita ne avevamo parlato, ho detto dobbiamo essere bravi a sopperire a questa situazione in queste due partite perché poi lavorando anche con i nuovi acquisti si troverà un'amalgama sia loro che della squadra. Abbiamo sofferto qualcosina nel primo tempo dal punto di vista del palleggio perché non trovavamo le misure giocando a tre in avanti e per questo poi ho dato la correzione nel secondo tempo, anche se è vero che la partita poi alla fine è stata equilibrata, fra l'altro affrontavamo una squadra in Monopoli e forse questa è stata la partita delle ultime quattro dove ha avuto meno occasioni e ha tirato meno in porta, ricordandomi la partita di Terni, la partita col Catanzaro e la partita anche con la USTAP dove era sotto 2-0 e poi ha vinto 4-2, quindi era una partita già difficile dall'inizio perché affrontavamo una squadra che si è dimostrata in salute però c'è da apprezzare la grandissima determinazione dei ragazzi andando sotto 1-0 e le prestazioni così non vengono per caso, anche con assenze importanti che ripeto, andranno ad affievolirsi con l'entrata anche dei nuovi acquisti ma in questo momento per noi erano delle certezze quindi sono stati bravi ragazzi, sono stati bravi nel credere, siamo una squadra diversa nella testa caratterialmente non ci abbattiamo più per un episodio negativo, questo da parecchio tempo, quindi la strada è questa e la dobbiamo percorrere ad alta velocità Possiamo dire che questa squadra non ha più paura di nulla, nemmeno dell'emergenza? No, ripeto, l'emergenza è temporanea perché adesso abbiamo messo dentro concorrenza, abbiamo messo dentro qualità, abbiamo messo dentro caratteristiche diverse quindi abbiamo sia in difesa la possibilità di non soffrire e subire un infortunio o una squalifica anche in avanti, anche oggi siamo riusciti con la grande voglia, la grande prestazione di Reginaldo di Piazza fino a quando è stato bene in campo quei 55 minuti, già da 5-10 minuti mi chiedeva sostituzione però essendo passato in vantaggio speravo sempre in una nostra azione in uscita dove lui poteva attaccare lo spazio e chiudere la partita anche perché, ripeto, Golfo è arrivato ieri, era l'unico attaccante per non abbassarci da mettere dentro difficilmente un ragazzo che ha fatto zero allenamenti come Golfo può essere messo dentro però oggi c'era bisogno quindi sono soddisfatto ma già col pensiero a mercoledì dove abbiamo una partita difficilissima affrontiamo una squadra forte che gioca bene al calcio e che oggi ha superato il proprio periodo negativo quindi da questo momento dobbiamo mettere nell'album dei ricordi questa vittoria importante, molto è la seconda consecutiva in casa, fra l'altro abbiamo migliorato il ruolino in casa che è determinante per chi vuole stare in alto e ci dobbiamo preparare già mentalmente da stasera a questa trasferta durissima dove ci vuole una grandissima motivazione per andare alla ricerca del risultato Un augurio di pronta guarigione anche per Curarino? Ma assolutamente sì, è stato uno scontro di gioco su una palla aerea naturalmente mi dispiace che venga a sapere che ha avuto delle conseguenze gli auguro una pronta ripresa, credo che non ci sia stata nessuna volontarietà sono andati a saltare di testa e forse con il gomito è andato in faccia ma non volontariamente, proprio nell'aprire le braccia, credo che sia questa la dinamica quindi gli auguro subito una pronta guarigione e speriamo che si rimette presto Siamo alle domande dei giornalisti, Antonio Capizzi è una vittoria che dà morale come giudica alla prestazione di Giosa la difesa sembra già quasi non poter più fare a meno di lui e questo lavoro d'appoggio di Reginaldo alla punta la soddisfatta? No, non voglio parlare oggi dei singoli Giosa è qui a Catania perché io ci credo tanto abbiamo lavorato due anni insieme, ma viene per dare il suo contributo come lo fa Sales abbiamo altri difensori importanti quindi nel calendario strapieno di incontri a distanza di tre giorni abbiamo bisogno di tutti servirà Giosa, servirà Tonucci, servirà Sales, servirà tutti quanti servirà Clayton, serviranno tutti i difensori che abbiamo quindi sicuramente è un giocatore che è arrivato a dare ancora più corposità a un settore dove noi all'andata abbiamo sofferto tantissimo poi per qualche infortunio e quindi da questo punto di vista siamo molto più tranquilli Edoardo Barbera ed Enrico Salvaggio le chiedono il perché di certi richiami nel finale soprattutto perché siamo rimasti senza attaccanti dentro in panchina e da un momento all'altro se prendi gol poi ti abbassi ancora di più e si può rischiare di... non avevamo fisicità davanti e quindi dovevamo uscire sempre palla al piede dovevamo essere bravi a continuare a pressare gli alti quindi non volevo che la squadra si abbassasse anche in fase di non possesso diciamo sui piazzati avevamo una squadra di statura abbastanza rispetto a loro che poteva andare in difficoltà quindi chiedevo insistentemente alla squadra di prendere alto di continuare a prendere alto, di cercare la palla nella loro metà campo a costo di prendere una palla alle spalle ma era meglio che soffrire sui grosso o prendere qualche calcio piazzato la squadra per dieci minuti ha avuto questo atteggiamento e poi invece è riuscita a fare questo e credo che poi da lì l'abbiamo tenuta molto molto bene la partita Senza Piccolo e Russotto la squadra può reggere il 3-4-3 o è meglio passare al 3-5-2? Ma guarda, Russotto io credo che... non credo che lo rischieremo ancora Russotto praticamente è la stessa situazione di Tonucci quando andava in campo e poi... quindi preferiamo questa volta aspettare un attimino non è niente di serio però credo che avendo Russotto, avendo Golfo che sono gli esterni attacco Piccolo ha fatto la risonanza e speriamo in 3-4 settimane di averla a disposizione si può tamponare però è pure vero che adesso ci possiamo permettere di giocare anche con una coppia di attaccanti avendo di piazza Sarave Reginaldo che comincia a combaciare naturalmente avevamo Pecorino che aveva fatto i 5 gol che ha fatto grandissime cose con noi e si è meritato questo spazio però come caratteristiche adesso abbiamo qualche giocatore come di piazza che è più da attacco di profondità mentre prima avevamo 3 prime punte classiche quindi possiamo alternare il gioco a secondo della salute e della condizione abbiamo 4 esterni Manne, Piccolo, Russotto e Golfo quindi dopo mercoledì cominciamo a lavorare sugli aspetti anche con i nuovi arrivi Presentiamo la partita di Castellammare recupererà Sarau? Sì, recuperiamo Sarau dobbiamo recuperare energie mentali soprattutto oltre che fisiche immediatamente credo che vedremo non lo do per scontato ma credo che si possa fare anche qualche rotazione perché ripeto abbiamo qualche giocatore anche in età che ecco i tre giorni vediamo se riescono a recuperarli però abbiamo anche il modo di poter fare delle rotazioni che ci può servire questo dico rispetto all'andata dove avevamo delle difficoltà e a volte dovevamo mettere in campo forza causa maggiore anche chi non aveva recuperato dopo due giorni di partita Un pensiero viste per i tifosi della Catania? I tifosi sono sempre la parte più importante del gioco del calcio perché noi che siamo i protagonisti in campo per me fare felice la gente che ama una maglia è una cosa fondamentale quindi è inutile dire sempre la stessa roba scontata speriamo di averceli perché sappiamo che quest'anno purtroppo è così io se non torneranno avrò un grande rammarico in questo anno di non avere potuto apprezzare lo spettacolo che onestamente in Italia poche tifoserie e lo hanno dimostrato negli anni possono regalarti però noi li sentiamo sempre al nostro fianco e giochiamo sempre per loro spero che hanno capito dopo delle battute iniziali dove c'era da plasmare amalgamare un gruppo che questa squadra gioca veramente con la maglia tatuata addosso quindi oggi mi sento di dire che sono felice anche e soprattutto per questo mi auguro che però noi riusciamo ad alzare l'asticella perché a Catania non ci si può mai accontentare lasciando vedere quali sono gli obiettivi iniziali quali possono essere gli obiettivi ora noi dobbiamo giocare partita per partita per rendere noi stessi la società e ripeto soprattutto anche la tifoseria orgogliosi di quello che poi andiamo a fare in campo a fare in campo a fare in campo